Zero contagi. Il 29 maggio rimarrà un giorno cruciale per l'Abruzzo perché è quello in cui finalmente la regione arriva a zero. Un numero sospirato per settimane e il risultato dei 1.603 tamponi analizzati nei tre centri di riferimento, quello di Pescara, quello di Teramo e quello di Chieti. Dunque con tre giorni di anticipo rispetto alle previsioni che avrebbero voluto il primo giugno come data utile per il fatidico risultato, l'Abruzzo non ha registrato nuove positività al Covid-19 e questo a distanza di 11 giorni rispetto alla totale riapertura delle attività commerciali. Ancora in calo il numero dei pazienti ricoverati in terapia non intensiva, 122, 3 numero invariato rispetto a ieri quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 645, meno 48 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Unica nota negativa sono gli altri due decessi registrati che portano il bilancio delle vittime a 404. 2063 sono i dimessi e i guariti più 52 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi in Abruzzo sono 770 con una diminuzione di 54 unità rispetto a ieri. Il prossimo report dettagliato mercoledì 3 giugno, successivamente aggiornamenti solo due volte a settimana, ogni martedì ed ogni venerdì.